Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video e come vedete già dal titolo, oggi parliamo di un film molto atteso, credo, almeno da parte dell'utenza appassionata di cinefumetti, ovvero Venom The Last Dance. Sacchetta, gadget, come sempre, non sto qua a tirarvi tutto fuori, non c'entra nulla. E' un nuovo, anzi terzo e credo ultimo capitolo, anche perché per alcune esigenze di trama penso sia l'ultimo capitolo di questa trilogia dedicata al Venom della Sony. Comunque sia prima di andare avanti, vi ricordo una cosa molto importante, questo video non ci saranno spoiler, ovvero non che ci sia quale spoiler da fare per un prodotto di questo calibro. So che però molti hanno sempre paura di qualcuno che va a raccontare qualche dettaglio fuori posto e può rovinarsi la sorpresa, però, come sempre, una cosa importante in questo modo sono le due scene post-credit. Vabbè, quindi a un certo punto chiuderò il video, farò una sorta di annuncio in cui, ok, finiamo il video, adesso sto per finire il video, dunque finisce la parte senza spoiler, per poi andare a raccontare quello che succede nelle due scene post-credit, però penso che nelle due scene post-credit parlerò per circa un minuto. Dunque, traete voi le vostre conclusioni, vabbè, alla fine non c'è davvero nulla da approfondire più di tanto, di oltre quello che già si vede nelle scene post-credit. Dunque, insomma, lo sapete, per ora sarà tutta una parte estremamente libera, non dirò niente di che, le mie considerazioni, come sempre, sul film, e poi vi annuncio che ci sarà, appunto, uno o due minutini sulle due scene post-credit. Prima di andare avanti, come sempre, vi invito giù nel box informazioni dove ci sono tutti i miei social, seguidemi anche lì, perché magari di un prodotto del genere cerco sempre di fare tanti altri piccoli contenuti. Ho cominciato anche a fare qualche piccolo shorts per YouTube, quindi le trovate anche qui nel canale, sono piccole chicche, informazioni, pillole di cose che magari non mi va di, tipo, Silent Hill 2 Remake, ho fatto un piccolo, un minutino di shorts buttato lì, non mi sembrava il caso di parlare a lungo, anche se magari ce ne sarebbe l'occasione, ma ero arrivato un pochino lungo, sia con la recensione che con l'articolo, il gioco, dunque, vabbè, ho detto, vabbè, lasciamo perdere. Però, se mi seguite tutti gli altri social, pubblico sempre piccoli contenuti ulteriori, qua su YouTube alla fine faccio questi lunghi, faccio questi video lunghi di chiacchiere in generale. Dunque, seguitemi sui social, mi trovate tutto giù, e poi c'è anche, se volete supportare il canale, come quello che porto qui, vi ricordo, il miglior modo è lasciare un like, non costa nulla. Iscrivetevi al canale, chiaramente, se poi volete c'è anche la piattaforma Ko-fi, dove potete donare, appunto, il costo di un caffè, sempre per supportare le mie attività. Allora, torniamo al film. Non penso che sarà un video estremamente lungo, articolato o quant'altro. Posso dire una cosa, però, che potrebbe meravigliare tanti di voi. Già qui su questo canale avevo fatto un piccolo video sul secondo film di Venom, La Furia di Carnage, no? Che non mi era piaciuto, come non mi era piaciuto il primo, La Furia di Carnage era leggermente migliore del primo, non che ci volesse tanto, però eravamo ancora in umbilico, in una zona di grigio, dove era veramente, insomma, un prodotto abbastanza imbarazzante. Questo terzo film, paradossalmente, questo Venom, The Last Dance, è forse il migliore? È forse il miglior film di questa trilogia, ipoteticamente, che raggiunge, comunque sia, una sufficienza stiracchiata. Ma è il migliore, è il migliore, però paradossalmente ne guardo poi il lato negativo, ovvero che finalmente questo film incominciava a raccontare qualcosa di molto forte, di costruire anche una mitologia abbastanza interessante, però la fregatura è che lo fai con il film finale. Dunque, praticamente, non ci saranno altri episodi, non lo so, probabilmente no, a meno che non si inventano qualcosa per esigenza di trama, che non verrò qui a dire, però, insomma, che peccato, perché, come sapete, se è già visto nei trailer, il film praticamente, lo sapete che questo franchise ha sempre sofferto un po' di una narrazione veramente stiracchiata, senza dettagli, eventi che capitano, senza contesti e quant'altro. Uno dei più grandi, uno dei film, questo che ha avuto dei più grandi miscasting della storia, Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, che non è proprio credibile nei panni di questo giornalista d'assalto, che infatti già dal secondo capitolo era un cretinello qualunque, qui proprio niente di più, cioè, proprio uno qualunque. E se vi ricordate c'era anche Michelle Williams, nel secondo mi pare appariva per meno tempo, nel primo era quasi una coprotagonista, potremmo dire, ma veramente una roba imbarazzante, cioè, Michelle Williams, che fa questi ruoli, forse, boh, doveva pagarsi qualche villa, qualche piscina, qualche Ferrari, è inspiegabile, perché poi questi sono dei ruoli, un'attrice come Michelle Williams, come anche Tom Hardy, questi sono tutti i ruoli che te accetti, perché non si vive soltanto di progetti d'autore, è una bella commercialata, ci sta sempre, lo fanno tutti i grandi attori, i grandi attori di quelli che, anche gente come Gay Pierce, Ethan Hawke, che sono attori che si scelgono in modo proprio stretto le loro sceneggiature, che gli piace lavorare con un certo tipo di cinema, poi ogni tanto la commercialata te la fanno, perché insomma, lì è massimo, devi proprio dare un sforzo minimo per un guadagno facilissimo, ecco, e dunque ci sta una roba del genere, però, ripeto, uno dei più grandi miscasting della mia, che la mia mente ricordi, cioè, sia Tom Hardy che Michelle Williams, non ci azzeccavano nulla, già per esempio Woody Harrelson nel ruolo di Carnage nel secondo ci stava, perché Woody Harrelson ce l'ha sta faccia un po' da matto schizzato, ha una faccia strana e dunque ci sta. Perché è figo questo terzo capitolo in particolare? Perché il film inizia proprio a bomba, cioè ovvero che vediamo Knoll, questo signore, no, dei simbionti, che ha creato i simbionti, che ti narra in 40 secondi la sua storia, cioè ovvero lui era il papà dei simbionti, poi il giorno i simbionti hanno deciso di rinnegarlo, lo hanno rinchiuso in una sorta di prigione demoniaca, una sorta di prigione fantasma, Superman, insomma, zona fantasma, come si chiama, non mi ricordo. E rimane intrappolato, poi da lì ci sono tipo delle creaturine che parlano con Knoll, che Knoll gli dice appunto c'è una chiave, c'è questo codex, chi può avere il codex tra tutti, appunto Venom, c'è questo codex, dunque voi i miei figli andate in tutti i pianeti, dimensioni conosciute, e cercate questo codex, così io mi posso liberare e distruggerò tutto l'universo, tutto quello che c'è. La cosa molto interessante di questo film è che praticamente Knoll fa un po' il verso a quello che è il Thanos, almeno che è stato prima per il Marvel Cinematic Universe, almeno la prima grande fase, la prima grande saga, cioè ovvero molti stavano già dicendo ah che peccato sfruttare e perdere un personaggio di Knoll così figo in un film, in un franchise come quello di Venom. sapevamo tutti un po' come sarebbe andato, no, questo suo background, perché praticamente tutta la parte, tutta la storia del film è la ricerca di questo codex, codex che è all'interno di Venom, ma è all'interno di Venom soltanto quando lui si trasforma totalmente, dunque Venom al 100%, quando invece se è soltanto lui che esce con la testolina dal petto o dalla spalla di Eddie Brock, questo codex non è visibile a questi mostri che sembrano un po' tipo gli insetti di Starship Troopers, come su un tipo di alienoidi, insomma. e sulla Terra dunque arriva questo alieno, figlio di Knoll, insomma uno dei tanti, per cercare questo codex che lo trova in Venom, però Venom appunto non può trasformarsi. Chiaramente il film è infarcito di stronzate dove poi Venom si trasforma senza motivo, cioè magari una scena prima ti dice non ci dobbiamo trasformare perché sennò questo alieno ci vede subito e ci raggiunge nel giro di 10 secondi e ci fa tanto male, è un alieno tipo indistruttibile o una roba del genere, e poi nella scena dopo trovano qualcuno, fanno una cazzatina, si trasformano, cioè Venom si trasforma totalmente, cioè proprio contrariamente a quello che dice. Però io sono sempre stato dell'idea che questi film volutamente brutti, volutamente scritti male, sono, l'ho già detto, sono voluti, cioè è qualcosa di ormai consapevole. Io ho questa teoria, ovvero che il primo Venom in realtà non era quel film che è uscito poi al cinema, era una roba molto più cruda, molto più cattiva, però per paura di avere un divieto sotto i 18, Sony l'ha cambiato, l'ha cambiato, perché il primo Venom è pieno di tagli, mozzato in modo bruttissimo, e anche la stessa promozione era molto indecisa. Io ricordo proprio il periodo di uscita di Venom dove sembrava quasi di vivere una sorta di bolla, tutto si era fermato in un momento per capire un attimo come il pubblico poteva recepire quel progetto. Difatti il pubblico l'ha massacrato, però i soldi sono entrati, ne sono entrati anche tanti. Ecco perché già con Carnage hanno cambiato il tono, l'hanno reso molto più coeso nella sua parte, e questo terzo capitolo paradossalmente diminuisce un po' le idiozie, ci sono sempre quelle, alcune sono anche carine, addirittura tutto è sorretto da un cast abbastanza interessante, c'è Juno Temple, c'è Riffifans, c'è C'è Itel Eiford, come si chiama quell'altro attore, tutti a dire Ehi, ma sono tutti attori che hanno già fatto altre parti nel Marvel, non ce ne frega niente, insomma, questo è l'ennesimo altro universo, no? Non vi preoccupate di queste cose qui, però è sorretto da tanti personaggi che hanno piccole storyline, però ragazzi il film si potrebbe chiudere in un corto di dieci minuti, cioè è Eddie Brock che scappa da questo alieno, basta, e questa corsa poi finirà in altri luoghi e quant'altro. La cosa carina è appunto che, e che mi è piaciuto di più, è praticamente tutto l'ultimo atto del film, se prendi il film e lo dividi in tre atti, il primo, la prima parte iniziale e quella centrale, è il classico prodotto, e poi c'è la parte finale che è veramente bella, è bella perché è un'esplosione di gusto, di colore, di simbionti, pieno di simbionti, e si sente anche che gli eventi sono portati da una minaccia gigantesca. Cioè, fino all'ultimo, la missione è sacra, evitare che quest'alieno possa prendere il Codex, perché altrimenti libererebbe Knoll, e incominciano a fare paragoni del tipo, immagina che l'universo diventa un improvviso grande dente demoniaco che uccide e morde tutto i pianeti. Insomma, si sente, e questa cosa un po' è rara, lo dico, i primi due di Venom non mi sono piaciuti, questo, sono sincero, è quello che rivedrei, ed è tanto, e si sente, c'è questa sensazione di aver finalmente costruito un bel background, però questa roba qui, e io lo dico, è un peccato farlo adesso al terzo film che chiudi tutto, l'avresti dovuto fare prima, avresti detto, ok, film brutti, però c'è una sorta di mitologia interessante. È chiaro che il fatto di Knoll lo porteranno, vabbè, avanti in altri modi, in altri film, in altri universi, chi lo sa, e in più cominciano a puntellare piccolezze, non dico nulla qui, per evitare, perché magari si vedono in tre scene, che potrebbero essere delle scene sparse, però mi hanno ricordato una roba che Sony ha già fatto anni fa, non dico nulla, lo dirò dopo nella parte spoiler, eventualmente. Insomma, ripeto, io chiuderei qui il video, cioè, è un film di una semplicità incredibile, come lo era prima, già per esempio Carnage, era un film che poi si articolava in cose allucinanti, il fatto poi che qui Eddie Brock non è a New York, non è in città, non è da nessuna parte, parte dal Messico perché vuole andare a New York, e dunque è tutto un po' un on the road, che dura talmente poco, perché poi è pieno di eventi esterni, ma sono eventi che danno una forza incredibile al contesto narrativo, dunque la minaccia di Knoll, il fatto che esistano tanti altri simbionti, che alcuni sono già sulla terra, altri stanno per arrivare, l'idea di una minaccia, che si fa concreta poi, nell'ultimo atto del film, e poi tutto un lungo combattimento, che devo essere sincero, non lo ti dà in giro, però mi è piaciuto, mi è piaciuto davvero tanto, perché in quel momento, nel momento in cui coniughi, la consapevolezza di fare una roba totalmente leggera, e il tono deve essere necessariamente leggero, a me è piaciuto, ora, poi ci saranno i puristi che dicono, ma Venom non è così, Venom è cattivone, Venom si mangia le persone, ci sono degli elementi, anche abbastanza un po' splatterosi, possiamo dire, che mi sono piaciuti, il modo in cui questo alieno, al soldo di Knoll, sconfigge, uccide le sue vittime, è molto particolare, è molto coreografico, però è carino, cioè, finalmente c'è qualcosa, devo essere sì, c'è qualcosa, che va a costruire i contorni dei personaggi, va a costruire questo background di Knoll, che sembra una minaccia veramente micidiale, una roba che non si sentiva da tanto tempo, anche nel modo in cui è scritta, perché è scritta in un modo molto veloce, ripeto, l'introduzione sono 50 secondi, in cui ti dicono tutto, è Knoll stesso che ti parla della sua storia, così, e dice, ora voglio essere liberato, andate a trovare il codec, via, il film è un'ora e 45 così, di la ricerca di questo codex, che appunto è nel corpo di Venom simbionte totale, e lo devono andare a prendere, con una prima parte, una seconda parte classica nei film di Venom, dunque non mi aspettavo niente di più, e in quel momento andava bene, era il classico film mediocre di Venom, che prende però nell'ultima parte, secondo me, molti punti, però ne guardo poi l'altra faccia, e mi dico, ma cavolo, ma proprio adesso, adesso che stava diventando interessante, chiudete tutto così? Peccato, questo era da fare prima, è chiaro che poi lì, secondo me, Sony si sta muovendo in un terreno particolare, e lo dico dopo nella parte degli spoiler, qui dunque, anche Sony sta cambiando un po' i suoi piani, progressivamente, anche con gli accordi, che riesce a mantenere, per l'utilizzo del Peter Parker, di Tom Holland, con la Marvel, come sapete, Sony detiene il personaggio, prende gran parte degli incassi, però le produzioni dei film, quando Tom Holland, cioè lo Spider-Man di Tom Holland, va alla Marvel, sono tutte a spese della Marvel, e Sony ci prende i soldi lo stesso, anche da questa cosa qua, Sony non mollerà mai Spider-Man, è inutile che la gente pensa che la Marvel possa fare una mossa così, e gli accordi sono tutti a favore della Sony, in tal senso, cioè comunque, se immaginate produrre un film per avere quel personaggio, però poi parte degli incassi legati a quel personaggio, vanno tutti a Sony, quindi va bene così, e quindi nulla ragazzi, io vi chiudo qui, nei prossimi tre minuti, due minuti che saranno, vi parlo di alcuni piccoli spoiler, più le scene, le incredibili scene post-credit, dunque, tanto vi saluto qui, vi ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo sotto nei commenti, lasciate like, come sempre le solite cose, e tra cinque secondi, parlerò delle scene post-credit, dunque 43, 44, 45, 46, 47, dunque perfetto, se siete rimasti fin qui, vi racconterò qualche piccolo spoiler, qualche, le due scene post-credit, diciamo che, quello che riguarda, un paio di scene, facevo riferimento prima, a un paio di scene, un pochino misteriose nel film, è che secondo me, Sony vuole ricostruire, il piano originale, di The Amazing Spider-Man, con l'associazione segreta, che crea, oppure cercherà di gestire, i Sinistri 6, perché ci sono un paio di scene, dove si fa riferimento, al personaggio di, 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 di Eifort, il militare, che schiama, delle persone, classico, impostazione alla X-Piles, una persona, in una stanza buia, con solo uno schermo, di computer, che la illumina, e che sembra essere uno, che ha, posizioni altissime, che apre porte, che neanche il presidente, degli Stati Uniti, potrebbe aprire, e, mi hanno ricordato moltissimo, quelle scene post-credit, dei due, di The Amazing Spider-Man, dunque, secondo me, stanno ricreando, vogliono ricreare, un po' quel progetto, dei Sinistri 6, lo volevano fare, già prima, questa volta lo fanno, ecco un po' il motivo, per cui, stanno facendo tutti questi film, Venom, Morbius, Kraven, Madame Webber, quella è, spero che, cioè, aiuto, ripensa a quel film, e, insomma, una roba del genere, è anche vero che, comunque, con quel finale, perché dico, perché iniziare a fare una bella mitologia, quando tutto finisce, perché, Venom si sacrifica, salva Eddie Brock, come persona, ma, lui simbionte, si sacrifica, per sconfiggere, tutti questi alienini, che stanno venendo per lui, così, lui muore, il Codex muore, e, Knoll, non può essere liberato, al momento, le due scene post-credit, sono una, stronzata allucinante, ragazzi, devo essere sincero, però, questo è un po' figlio, dell'hype, io sono un po' contro, queste cose, cioè, la gente che impazzisce, deve scoprire le scene post-credit, quali sono, non ce ne frega niente, insomma, beh, la prima scena post-credit, è, semplicemente, Knoll, che si vede un pochetto in viso, è tutto fatto in CGI, sembra confermato, che sia Andy Serkis, a dare volto e voce, e, che dice, ok, il vostro campione è morto, e, quindi, anche il Codex è morto, ma io troverò un modo, per distruggere tutto, vabbè, insomma, anche lì sembra l'inizio, di una grande minaccia, di quello che potrebbe essere Knoll, e che magari, forse, Spider-Man, assieme ai sinistri, sei, non si sa, chi puoi fare tante robe, però, non c'è nulla di interessante, in questa scena, la seconda scena, che arriva alla fine, dei titoli di Coda, è una cosa abbastanza imbarazzante, praticamente, l'ultima parte del film, si svolge nell'area 51, che viene bombardata, distrutta, esplosioni, tra i simbionti, gli alieni, un casino dell'allucinante, e il famoso barista, se vi ricordate, il barista con cui veniva a contatto, Eddie Brock, nelle diverse scene post-credit, quando viaggiava, tra un universo e l'altro, che viene rapito, appunto, dai militari, che si, è una scena, un po' tipo, boh, finale dell'armata delle tenebre, un po' del genere, dove lui esce, da una grotta, con tutta l'area 51, distrutta, e, che è ancora vivo, e scappa via, così, poi si vede una blatta, che forse ha un po' di simbionte, ma anche lì, l'ennesima scena post-credit, dove mi fa vedere, che c'è qualcosa, ma non è collegato assolutamente a nulla, una bella perculata, e l'unica cosa, ripeto, che dispiace, appunto, dispiace, mi dispiace il fatto, che ormai Eddie Brock, sia tornato un essere umano normale, riprenderà la sua vita, Venom, questo Venom, della Sony, è morto, e dunque, tutte le possibilità, in mano a Marvel, eventualmente, di fare un altro Venom, con un'altra struttura, da spina dorsale, oppure, boh, chi lo sa, insomma, io chiudo qua, non vi lasciate fregare, spesso, quando vi dicono, le scene post-credit, ci sarà, Spider-Man, niente di che, intanto, Knull, già l'abbiamo visto, a inizio film, quindi, la prima scena post-credit, Knull, che dice, ah, tornerò, in qualche modo, tornerò, ma tanto, non sei mai tornato, quindi, e la seconda, è che, il tizio del bar, era ancora vivo, e poi, ecco, tutti stanno già, impazzendo, perché si vede una blatta, che, che forse, ha un po' di simbionte, sì, ma non cambia nulla, non è una roba, è la stessa scena post-credit, che mi ha fatto vedere, in altri due film identici, dunque, anche qui, niente di che, per chiunque sperava, in qualcosa di diverso, però, al netto di tutto, io la psicosi, delle scene post-credit, non le capisco, ma al netto di tutto, oh, devo essere sincero, è un film che mi è piaciuto, questo Venom, è forse tra i tre, l'unico che riguarderei, perché il primo, il secondo, non li ho mai più rivisti, dopo le proiezioni stampe, questo me lo rivedrei, lo rivedrei davvero, ma giusto, l'ultima parte finale, ma dal non vedere niente, a vedere magari, gli ultimi 20 minuti, capite che qualcosa, è andato bene, niente ragazzi, io chiudo qua, vi saluto, vi ringrazio per aver visto, questo video, come sempre ci vediamo sotto, nei commenti, vi invito sempre, come lo dico sempre, spesso e volentieri, a non scrivere spoiler, c'è sempre qualcuno, che mi dispiace, se lo farà ancora, sono costretto a bannarlo, bloccarlo, mi dispiace, ma continua sempre a scrivere, tutti gli spoiler di ogni film, sotto nei commenti, a me non piace cancellare commenti, però capite che, insomma, qualcuno viene qui, perché vuole sapere le mie considerazioni, e si trova gli spoiler degli altri, insomma, fate qualcos'altro, nella vostra giornata, niente, vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo di lasciare un like, per supportare il mio lavoro, e, no, non posso ancora dire nulla di una roba, tra un paio di miei, tra gennaio vi dirò anche una cosa carina, che sta, che uscirà a febbraio, e cui ho lavorato, per negli ultimi due anni, ma c'è tempo, ciao ragazzi, ci vediamo a un prossimo video, ciao a tutti.